Ho trovato scritto, per conoscere un uomo devi camminare sulle sue scarpe. I bambini veramente ci provano, l'avete notato, a volte prendono le scarpe di noi adulti, ciappi, ciappi, ciappi in casa, no? Ma noi adulti invece a ben pensare è metterci a camminare sulle scarpe che ormai hanno preso forma sul piede di un altro, è davvero difficile e impossibile. Allora, che ci insegna? Qual è la sapienza di questa espressione? Innanzitutto, non partiamo coi pregiudizi l'uno verso l'altro, il pregiudizio ci blocca. Poi, difatti, non alziamo muri l'uno verso l'altro, perché capita, eh? Invece, io credo che la sapienza che ci viene da questa riflessione è la seguente. Innanzitutto, perché non cominciare a dire, ma pure ci saranno dei doni naturali che il Padre Eterno ha dato a questo fratello, a questa sorella, a questa persona con la quale pure è difficile vivere. Chiedersi quali sono i doni naturali, la sua intelligenza, la sua capacità professionale, no, il positivo. Poi, per esempio, chiedersi, oltre quali sono i doni naturali, ma quali sono i suoi sentimenti? Io non penso che una persona sia senza sentimenti. Invece cominciare a dire, ah, però, vedi, ci sono pure nei sentimenti di questa persona, ha pure espressioni dal cuore buono, i sentimenti. Proviamo poi a pensare, ecco, ma questa è una sua storia, e la storia di ogni persona è delicata, fin da bambini, man mano che si cresce, è ricca di sfumature, sfumature anche di gioie, di sofferenze, che magari hanno segnato, hanno ferito una persona, e chiederci, ma quali sono state le sue ferite? Ecco, io credo, continuando una riflessione così, una lettura positiva degli altri, fa bene a noi, perché ci arricchiamo, allora, della ricchezza spirituale che inevitabilmente il Padre Eterno ha messo in ogni persona.